Ok, continuiamo la discussione introduttiva sull'elettrostatica. Abbiamo visto la volta scorsa il concetto di carica elettrica, i principali fenomeni che coinvolgono corpi elettrizzati e il fatto che si può elettrizzare un corpo per strofinio, come qui avete la foto del pettine che può averlo usato o strofinato, può attirare piccoli pezzettini di carta, oppure può deviare il corso di un'acqua che cade. E qui sotto c'è un esempio dell'oggetto da cui l'elettricità prende il nome, che è l'ambra in greco, si dice electron, proprio perché è uno dei primi oggetti che manifestava queste proprietà. Abbiamo visto cosa intende per elettrizzazione, è il fatto che ci sono due comportamenti diversi di corpi elettrizzati. Se per esempio prendo due pettini e idealmente li elettrizazzo sufficientemente a sufficienza, questi due essendo dello stesso tipo si elettrizzano nella stessa maniera e si respingono. Invece se prendo un pezzo di plastica e un pezzo di stoffa, questi si elettrizzano in modi diversi e si attraggono. Questo conduce alla conclusione del fatto che esistono cariche di tipo diverso e storicamente Franklin le ha indicate quel segno positivo o negativo e quindi corpi essenzialmente cariche di un stesso modo si respingono, quindi il positivo respinge il positivo, il negativo respinge il negativo e cariche invece di tipo diverso si attraggono. Che cosa si consiste nella tale elettrizzazione? Beh, l'interpretazione fa appello alla fisica microscopica, elettrizzare un corpo significa trasferire da un corpo all'altro parte degli elettroni più esterni nella struttura nucleare, quindi meno legati. E a seconda del tipo di materiale, cioè a seconda del tipo di nube elettronica che circonda la molecola di cui è fatto l'oggetto o l'atomo in generale, questo può acquisire facilmente elettroni o può cedere facilmente elettroni. I corpi che cedono più facilmente elettroni sono quelli che si elettrizzano positivamente, quelli che li acquisiscono si elettrizzano negativamente. Comunque in ogni caso tutto il fenomeno dell'elettrizzazione è un altro che ripeto che è un passaggio di carica da un corpo a un altro, mantenendo costante il totale. Quindi quando elettrizzo qualcosa, trasferisco la carica, non la creo e non la distruggo. E questo fa appello a un'altra legge fondamentale, forse la prima legge fondamentale dell'elettrostatica, cioè il fatto che se ho un sistema chiuso, nel senso che non scambia materia con l'esterno, la carica totale interna al sistema, quindi la somma algebrica di tutte le cariche con il loro segno, rimane costante. Quindi se avevo un corpo inizialmente neutro, anzi meglio, se avevo due corpi inizialmente neutro, elettrizzarli significa trasferire carica dall'uno all'altro, ma il totale, la somma dei due, rimane sempre la stessa. D'accordo? Questo è un punto fondamentale. Abbiamo visto alcune simulazioni. E riguardo all'elettrizzazione, ci sono comportamenti di tipo molto diverso. Alcuni corpi hanno facilità a permettere lo spostamento delle cariche libere al loro interno, quindi vengono chiamati i conduttori, cioè conducono l'elettricità, sono tipicamente i metalli. Altri invece, come il legno, la plastica, il vetro, non permettono lo spostamento macroscopico di cariche. E questi sono gli isolanti. D'accordo? Poi ci sono una categoria molto importante che sta a metà strada, c'è corpi che sono normalmente isolanti, ma possono diventare conduttori in determinate situazioni. Se abbiamo a che fare con un conduttore, immaginate questa sfera di metallo, di acciaio, di rame, quello che volete, allora una frazione, attenzione, non tutti, ma una frazione degli elettroni, sono, tra virgolette, liberi, cioè si muovono facilmente attraverso l'intero oggetto, cioè proprio da una parte all'altra dell'oggetto, possono spostarsi, quindi hanno una facilità di movimento, proprio perché il corpo è conduttore. E quindi se avvicino una carica esterna, se avete una barra carica positivamente, o una macroscopica ridistribuzione della carica, gli elettroni liberi, visto che la carica esterna è positiva, vengono attratti da questa carica, quindi si dispongono prevalentemente nella zona più vicina della sfera, lasciando libera la zona più lontana e quindi ho un eccesso di carica negativa a sinistra e un difetto di carica negativa, quindi una carica positiva a destra. Questo tipo di ridistribuzione, ripeto, macroscopica delle cariche si chiama induzione, cioè questo oggetto subisce il fenomeno dell'induzione elettrostatica, cioè la carica si ridistribuisce su una asimmetria macroscopica, mentre normalmente gli elettroni si trovano tanto a destra quanto a sinistra, quindi globalmente e microscopicamente il corpo è neutro, per induzione il corpo rimane neutro, ma gli elettroni non sono più indifferentemente a destra o a sinistra, ma si dispongono prevalentemente in una zona rispetto a un'altra. Questo è il fenomeno dell'induzione, che avviene nei conduttori. Diversamente da questo, negli isolanti, questo non è possibile, perché in un isolante, gli elettroni non sono liberi di muoversi dove vogliono, rimangono appiccicati all'atomo al quale sono legati o alla molecola al quale sono legati e non possono spostarsi. Però una carica esterna produce a livello microscopico, cioè in ogni microstruttura, quindi in ogni atomo, in ogni molecola, una asimmetria nella distribuzione delle cariche, cioè gli elettroni esterni sentono la presenza comunque della carica esterna e tendono a disporsi più vicini alla carica esterna, sia di segno opposto, più lontani sia dello stesso segno, quindi producono una asimmetria però microscopica della distribuzione della carica elettronica esterna. Quindi si dice che vengono prodotti a livello microscopico dei dipoli, cioè una coppia dipoli, come se qui avessi proprio un effetto, se volete di induzione, ma a livello microscopico, mentre a livello macroscopico non c'è spostamento globale di carica. Questa è una differenza molto importante. Questo processo che avviene negli isolanti, diversamente dal conduttore, viene chiamato polarizzazione, cioè le molecole, se di loro non sono polari, cioè se non hanno asimmetrie intrinseche di carica, acquisiscono questa asimmetria per effetto della carica esterna. Se invece, come nel caso dell'acqua, per esempio, ogni molecola di suo è già polare, che succede? Questa polarizzazione viene leggermente aumentata, ma essenzialmente la molecola ruota, si orienta, in modo da disporre la sua parte, diciamo, negativa in corrispondenza della parte più vicina alla carica esterna, mentre la parte positiva tende ad allontanarsi. quindi quelle che non sono polari acquisiscono una polarità, quelle che molecole che sono già polari ruotano e si dispongono in questo modo. Ok? Quindi due fenomeni, l'induzione per i conduttori, la polarizzazione per gli isolanti. Ok? D'accordo? Poi a livello microscopico, all'interno dell'oggetto, che succede? Beh, vedete che qui ho questi due dipoli affacciati, questa carica positiva sta a fianco di questa negativa, all'interno, queste due praticamente non contribuiscono, non danno un effetto elettrostatico interno. Invece rimangono non bilanciate le cariche, in questo caso, che sono nell'estremo sinistro del nostro rettangolo di isolante, e quella è nella parte destra e l'effetto è come se ci fosse uno sbilanciamento di carica macroscopico, tra le due facce opposte del materiale che subisce la polarizzazione. Però questo è un effetto di distribuzione microscopica negli isolanti, mentre nei conduttori ho proprio uno spostamento di carica, è chiara la differenza. Ok? Questo è importante per quello che verrà anche tra un attimo. Ok, torniamo al fenomeno dell'induzione. posso caricare degli oggetti conduttori per esempio per induzione e come in questo caso ho due sfere conduttrici a contatto avvicino una carica esterna per induzione la carica si ridistribuiscono quella negativa nella sfera di sinistra e quella positiva nella sfera di destra se poi le separo le due sfere rimangono cariche mentre nel caso di prima che avevo una sfera sola ecco se io rimuovo la carica induttrice la barra carica le cariche nel conduttore ritorno distribuisse in modo indifferente in tutto il volume del nostro conduttore se ho le due cariche attaccate poiché sono a contatto le cariche negative gli elettroni possono spostarsi dalla sfera di destra a quella di sinistra e poi se le separo non possono più ridistribuirsi come erano prima ma quella di sinistra rimane carica quella di destra negativamente e quella di destra positivamente quindi ho caricato per induzione posso fare la stessa cosa se collego avendo una sfera sola scusate se collego questa sfera a terra che significa collegare a terra significa mettere in contatto il mio nostro conduttore con la terra la terra è conduttrice quindi è in grado di assorbire o di cedere cariche a seconda dell'elettrizazione quindi se avvicino la carica esterna alla nostra sfera e la metto in contatto con la terra ok se per esempio la barra conduttrice è carica positivamente allora richiamo elettroni dal terreno che si trasferiscono sulla carica sulla sfera carica quindi la caricano se poi tolgo la messa a terra la sfera che condutti invece rimane carica negativamente ok anche questo è un fenomeno relativo alla induzione visto che sto parlando di un conduttore questo non lo posso fare con un isolante per esempio metto a terra un isolante questo una volta che tolgo il ricordo la carica quindi questo non rimane più carico perché non acquisisce elettroni al terreno ok un semplicissimo strumento atto a verificare se un corpo è carico o no è l'elettroscopio ok che come è fatto beh c'è un oggetto metallico normalmente una sfera in collegamento con due fogli di oro o di materiale molto conduttore leggero che una volta che si carica qui per esempio immaginate di avvicinare una carica positiva allora per induzione gli elettroni si trasferiscono sulla parte vicina alla carica esterna e resta carica positivamente la parte relativa a queste due foglioline che sono vicine quindi essendo della stessa carica queste si respingono tra di loro perché hanno carica uguale quindi tra loro si respingono quindi se avvicinando un oggetto se non so se è carico o no vedo che le due foglioline si allargano vuol dire che in questo oggetto esterno c'è presente della carica non mi dice di che segno non mi dice che c'è d'accordo se poi tocco l'elettroscopio allora l'elettroscopio si carica e quindi le due foglioline sotto rimangono rimangono separate per scaricarlo devo collegarlo a terra in modo tale che si neutralizzi vediamo un filmato che vi illustra questo processo ditemi se sentite in questo esperimento studiamo il funzionamento di un elettroscopio uno strumento che ci consente di scoprire se un oggetto è elettricamente carico abbiamo bisogno di un elettroscopio una bacchetta di ebanite o plastica e un panno di lano osserviamo che all'interno dell'elettroscopio ci sono due foglioline d'oro che si toccano strofiniamo vigorosamente la bacchetta di plastica con il panno di lana tocchiamo la sfera dell'elettroscopio con l'estremità strofinata della bacchetta subito le foglioline d'oro si respingono e si divaricano tocchiamo ora la sferetta con la mano le foglioline ritornano nella posizione iniziale avviciniamo infine la bacchetta al pomello dell'elettroscopio senza averla strofinata con la lana non succede nulla quando strofiniamo la bacchetta con il panno di lana la elettrizziamo per strofinio e le conferiamo una carica elettrica negativa nell'istante in cui la bacchetta carica negativamente tocca la sferetta conduttrice dell'elettroscopio parte della carica passa sulla sfera poi sull'asta metallica dell'elettroscopio e finisce per distribuirsi su tutto il dispositivo fino alle foglioline d'oro queste hanno cariche dello stesso segno e quindi si respingono la loro divaricazione testimonia dunque che la bacchetta è elettricamente carica toccando l'elettroscopio con un dito la carica distribuita sullo strumento si scarica a terra attraverso il nostro corpo anch'esso conduttore se infine tocchiamo la sfera dell'elettroscopio con la bacchetta di plastica senza strofinarla non succede nulla quindi la bacchetta è neutra ci sono domande questo è un elettroscopio cioè è in grado di visualizzare la presenza di carica mediante il fronte della ripulsione elettrostatica in questo esperimento studiamo il funzionamento di un elettroscopio ma non è in grado di misurare quant'è la carica né di che segno è ok la desinenza scopio come il termoscopio è in grado di visualizzare la variazione di temperatura mentre un termometro è in grado di misurare la variazione di temperatura scopio significa ciò che ti posso mostrare ok come faccio invece a misurare la carica beh l'interazione tra cariche dello stesso segno o segno opposto è stata quantificata cioè l'analisi quantitativa più o meno fino adesso abbiamo visto l'analisi grosso modo qualitativa del fenomeno dell'elettrostatica la prima analisi quantitativa è dovuta a Auguste Coulomb seconda metà del settecento e ha usato la stessa tecnica utilizzata da Cavendish per misurare la costante G non so se ve la ricordate la bilancia di torsione ok e il principio è più o meno lo stesso cioè ho una manubra una barra proprio con due sfere conduttrici agli opposti agli esterni opposti e la barra è sospesa verticalmente qui c'è uno specchietto immaginate uno specchio che subisce viene copiato da un raggio di luce se carico le due sfere questa per esempio questa B e questa C e le avvicino d'accordo allora per effetto della trazione se sono cariche diverse della repulsione se è la stessa carica queste due sfere si respingono quindi la barra subisce una torsione se si sposta ruota finché la un po' come una molla la risposta alla torsione la barra ruota fin tanto che la la forza di risposta alla torsione non bilancia la forza che produce la torsione cioè quella della repulsione o attrazione elettrostatica l'intensità della torsione quindi della forza applicata è misurata dalla deflessione del raggio luminoso che colpisce questo specchietto e quindi dall'effetto diciamo così angolare subito dal raggio incidente sullo specchietto posso ricostruire l'intensità della forza ok è il stesso principio di quella della bilancia di torsione busata per misurare la costante di gravitazione universale G di fatto la forza con cui due cariche puntiformi interagiscono ha questa espressione che si comporta in modo molto molto simile alla forza di gravitazione universale quindi la forza con cui due cariche puntiformi Q1 e Q2 a distanza R l'una dall'altra si attraggono se la carica è di segno opposto o si respingono se le cariche sono dello stesso segno è data da questa espressione la forza è proporzionale al prodotto delle due cariche quindi F1 per Q2 è inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa e c'è una costante K che dipende dall'ambiente in cui questo avviene attenzione questo è molto diverso invece dalla forza gravitazionale mentre la forza è la stessa in qualsiasi ambiente K è diverso a seconda che siamo nel vuoto oppure un altro metro lo vediamo tra un attimo nel vuoto questa K per ragioni storiche e per mettere d'accordo un'unità di misura misura 8,99 per 10 alla 9 newton per metro quadro sicura un vala seconda ok detto in altri termini se ho due cariche separate da una distanza di un metro ed entrambe della grandezza di una unità di misura vediamo come definirla allora la forza con cui si attraggono se sono di carica opposta o si respingono se sono dello stesso segno vale proprio la costante K quindi circa 9 per 10 alla 9 newton d'accordo perché questa scelta dipende dall'unità di misura che uso oltre che dipende ripeto dall'ambiente d'accordo questo tipo di espressione viene anche utilizzata per introdurre vediamo se c'è scritto qui l'unità di carica l'unità di carica è prende il nome proprio da lo studioso che ha introdotto che ha scoperto questa relazione che si chiama coulomb quindi l'unità di carica è proprio il coulomb C maiuscolo e si dice che due cariche hanno una unità di carica cioè sono cariche con un coulomb di carica elettrica se posta la distanza di un metro si attraggono o si respingono se hanno stesse cariche rispetto a ostegno opposto con una forza di circa 9 per 10 alla 9 newton questo è il modo in cui si definisce l'unità di carica elettrica d'accordo qui c'è un'altra simulazione sempre dell'effetto sull'effetto della carica immaginate di avere due cariche Q1 a sinistra Q2 a destra il righello misura la distanza qui vedete questa Mi sta a indicare il fatto che ho dei micro coulomb perché il coulomb è un'unità di carica molto grande e quindi le due forze sono ad esempio a questa distanza circa 320 newton se cambiamo la distanza se non teniamo le due cariche la forza diminuisce perché aumenta il denominatore in quella espressione d'accordo mentre se le avvicino se aumento le cariche la forza è uguale è chiaro che se ho le due forze le due cariche e conto solo l'interazione tra l'una e l'altra le due forze sono esattamente dello stesso valore per il terzo principio della dinamica ok tant'è la forza con cui la carica 1 attrae la carica 2 quanto quella con cui la carica 2 attrae la 1 principio di azione e la reazione le due forze hanno la stessa intensità ma verso opposte la carica su Q1 va verso destra quella su Q2 va verso sinistra ok sono molto più piccole quindi le forze sono 10 a meno 7 fa tutto la scala di lunghezza qui è un centimetro prima era un picometro 10 a meno 12 quindi ripeto quello che è fondamentale è che la forza di interazione elettrostatica è legata al prodotto delle due cariche cariche puntiformi e all'inverso del quadrato della distanza d'accordo? e qui l'avevo detto prima questo l'unità di misura della carica elettrica si definisce proprio in questo modo quindi se ho due cariche separate da una distanza di un metro e se ciascuna sono dello stesso valore ciascuna delle due vale un coulomb quando la forza con cui si interagiscono vale circa 8,99 in 19 N cioè il valore di K perché questa scelta perché proprio questo numero è legato all'unità di misura scelta il fatto che voglio misurare la forza di Newton la carica di coulombe e la distanza in metri non c'è niente di speciale in questo domanda tutto chiaro? è legata all'intensità delle due cariche quindi è direttamente proporzionale a ciascuna delle due cariche ed è data la più intensità è proporzionale al prodotto delle due cariche quindi per dire se raddoppio Q1 raddoppia la forza se raddoppio Q2 raddoppia la forza se raddoppio tutti e due la forza quadruplica perché è legata al prodotto ok ed è inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza cioè se raddoppio la distanza la forza si riduce di quattro volte se io triplico la distanza la forza si riduce di nove volte e così via oppure se riduco la distanza di un 3 cioè se era vicino a metà della distanza la forza diventa quattro volte più grande e in modo del tutto analogo ripeto a quello che abbiamo già visto studiando la forza di gravitazione universale ok una grossa differenza qual è? è che nel caso della forza di gravitazione l'interazione gravitazionale è sempre attrattiva non esistono masse che si respingono per quanto riguarda invece la forza elettrostatica a seconda del segno della carica la forza può essere attrattiva oppure repulsiva mentre nelle masse questo non succedeva ok poi in ogni caso si tratta di una forza cioè l'interazione elettrostatica si comporta come una forza cioè obbedisce alle leggi delle forze cioè un vettore e quindi ad esempio se ho più cariche prima ne abbiamo viste due immaginate di averne tre quindi avete una in questa posizione una qui e una in questa posizione la forza complessiva che agisce sulla carica Q3 sarà l'effetto della carica Q2 e della carica Q1 sommati vettorialmente perché si tratta di vettori le forze sono vettori quindi qui sotto avete la risultante sulla carica 3 sarà data dalla somma della forza che la carica 3 subisce a causa della carica 2 più la forza che la carica 3 subisce a causa della presenza della carica 1 e i due vettori sono sommati cioè rispettano la regola del parallelogramma quindi questo vettore qui F3 con la regola del parallelogramma o della punta colla se preferite è il vettore risultante quindi se ho più cariche in posizione diversa nello spazio l'effetto globale di tutte le cariche su quella che mi interessa non è semplicemente la somma algebrica delle forze ma è la somma vettoriale delle forze e questo è una cosa a cui stare attenti d'accordo? mi ricordatevi che le forze si sommano vettorialmente altra differenza importante rispetto alla alla forza gravitazionale è l'importanza dell'ambiente nel quale si trovano le cariche che interagiscono se io ho due masse diverse in qualunque posto si trovino nel vuoto nell'acqua si attirano con la stessa intensità non è così per le cariche elettriche nel vuoto l'intensità della trazione o repulsione elettrostatica ha un valore se ad esempio anziché avere cariche nel vuoto le metto in acqua o in un mezzo che non sia il vuoto l'intensità della forza è più piccola diminuisce nel vuoto ho l'intensità massima sia per quanto riguarda la trazione sia per quanto riguarda la repulsione per quale motivo beh immaginate qui la cosa è un po' semplificata anziché avere cariche puntiformi ho due piastre cariche ok immaginate che all'interno di questa zona ci sia che ne so dell'acqua quindi un isolante polare le molecole dell'acqua che sono di loro polari ripeto subiscono la polarizzazione quindi si orientano con la loro faccia negativa verso sinistra dove ho la carica positiva e la faccia positiva verso destra dove ho la carica esterna negativa ok in questo modo la producono una una carica di polarizzazione cioè questa la faccia a sinistra presenta una carica negativa la faccia a destra presenta una carica positiva questi due eccessi di carica prodotta dalla polarizzazione dovuta al fatto che ho cariche esterne fa sì che l'effetto globale all'interno del mio materiale è sì l'effetto della carica più Q grande meno Q grande esterni ma a questo devo sommare anche l'effetto di questa carica cioè la carica che si appare che si manifesta sulla faccia sinistra del nostro volume del nostro strato striscia di acqua è quella positiva che si manifesta sul lato destro siccome le cariche di polarizzazione sono di segno opposto a quella a quella esterna ne riducono l'effetto ok è come se immaginate di mettere una carica in mezzo all'acqua qua in mezzo questa viene attratta positiva viene attratta verso destra ok dalle cariche esterne ma viene respinta verso sinistra dalle cariche di polarizzazione quindi la forza che subisce è in realtà più piccola di quella che avremmo se qui all'interno di questa zona l'acqua non ci fosse quindi se metto cariche elettriche nel vuoto queste si respingono con una certa intensità se le stesse cariche le metto in un mezzo cioè un mezzo materiale un fluido un'acqua quello che sia la forza è ridotta e più piccola questo effetto viene misurato da questa grandezza questa epsilon r che prende il nome di costante dielettrica relativa relativa che cosa relativa al vuoto questo numero che è un numero puro che è un rapporto tra forze esprime il rapporto tra a parità di sistema elettrostatico cioè parità delle forze delle cariche coinvolte e della loro distanza il rapporto tra la forza esercitata nel vuoto questa F0 e la forza con cui per esempio due cariche si respingerebbero o si attrarrebbero nel vuoto fratto la forza con cui le stesse cariche stesso valore e stessa distanza tra di loro si attraggono o ripeto si respingono ma nell'ambiente che non è il vuoto per esempio in acqua ok per l'acqua per esempio mi sembra che la costante elettrica sia circa 80 quindi è elevata d'accordo dove per F0 c'è l'espressione della forza nel vuoto quindi questa K0 è la costante di Coulomb si chiama nel vuoto mentre nel mezzo assume un valore diverso un valore più piccolo attenzione Epsilon R è più grande di 1 perché nel vuoto l'intensità della forza è maggiore mentre in K questa costante appare al denominatore d'accordo quindi diversamente dalla forza di gravitazione universale la forza elettrostatica è sensibile alla presenza del vuoto oppure di un mezzo materiale nello spazio in cui si trovano le cariche che interagiscono questa è una grossa differenza in generale la costante K letta anche costante di Coulomb si può esprimere vediamo a breve perché come 1 fatto 4 pi greco Epsilon che può essere Epsilon 0 se sono nel vuoto oppure Epsilon 0 Epsilon R se sono in un mezzo questa Epsilon prende il nome di costante dielettrica relativa dielettrico il dielettrico significa è un altro nome che si dà non conduttore agli isolanti un isolante si può anche chiamare dielettrico attenzione dielettrico è tutta una parola non sono separate ok quindi che cosa si intende per costante dielettrica relativa è un numero puro che misura l'effetto del mezzo nel cui mi trovo sulla interazione elettrostatica normalmente il valore di questa costante è più grande di 1 e assume il suo valore minimo che è 1 nel vuoto per questo si chiama costante elettrica relativa cioè relativa significa di confronto è una costante che confronta l'effetto della forza nel vuoto e quella nel mezzo nel quale le cariche si trovano se sono nel vuoto epsilon r vale 1 se sono che ne so nell'acqua in alcol in una soluzione ha un numero normalmente più grande di 1 e siccome appare nella forza elettrostatica al denominatore la forza è più piccola d'accordo? ci sono domande? questo è un punto abbastanza delicato ok la costante k costante di coulomb nel vuoto può essere espressa in questo modo da cui invertendo si ha che la costante di elettrica relativa del vuoto può essere espressa questo serve quando faremo gli esercizi in questo modo k0 e 899 per 10 alla 9 newton per metro quadro sul coulomb alla seconda e epsilon 0 costante di elettrica assoluta del vuoto 885 e 10 alla meno 12 km alla seconda fratto newton al metro quadro in generale la costante di elettrica assoluta di un mezzo sarà il prodotto tra quella del vuoto e quella relativa del mezzo rispetto al vuoto ok non preoccupate non dovete imparare a memoria questo in basta che sappiate insomma più o meno che esistono poi comunque in tutti gli esercizi questo sarà comunque data la tabella di riferimento che utilizzeremo è il momento opportuno ultimo punto che vediamo oggi punto particolarmente importante il confronto vi assumiamo il confronto tra le due forze gravitazionale ed elettrostatica perché perché matematicamente hanno aspetti molto simili qui ve lo sotto ve le ho scritte entrambe sono entrambe forze che dipendono dall'inverso del quadrato della distanza quindi formalmente sono dello stesso tipo sono soggette alla stessa sono entrambe forze quindi sono vettori inversamente proporzionali al quadrato della distanza che separa gli oggetti che subiscono e producono queste forze ok sono proporzionali a entrambe alle due alle cariche o alle masse cioè quindi alla grandezza fisica che crea che produce questa forza ma attenzione prima differenza la forza gravitazionale è pura è sempre attrattiva quella elettrostatica può essere attrattiva o repulsiva a seconda dei segni delle cariche ci sono due comportamenti per l'elettrostatica un solo comportamento per la gravitazione ok inoltre altra grande differenza la forza gravitazionale non dipende dal mezzo nel quale gli oggetti si trovano mentre quella elettrostatica sì la forza elettrostatica dipende dal fatto che le cariche siano nel vuoto o meno proprio in realtà in sostanza per il fatto che ha questo doppio comportamento se avesse anche la forza elettrostatica fosse puramente attrattiva o puramente repulsiva la costante K non dipenderebbe del fatto che sono nel vuoto o no ok poi c'è un'altra importante differenza legata alla loro intensità immaginate di prendere un sistema molto semplice due due particelle un atomo di idrogeno per esempio ok e di confrontare l'interazione tra queste due particelle la forza elettrostatica e la forza gravitazionale qui abbiamo la separazione tra le due cariche all'interno della struttura dell'atomo la carica del nucleo e dell'elettrone che è la stessa che è 1.6 in 10.019 Coulomb la massa dell'elettrone e la massa del protone e le due costanti che ci interessano quella di Coulomb e quella gravitazionale se calcoliamo le due forze cioè la forza con cui l'elettrone e il protone si attraggono nel nucleo e quella con cui interagiscono gravitazionalmente avendo una massa abbiamo un rapporto di questo tipo cioè la forza elettrostatica è più grande di quella gravitazionale di un fattore di quasi 40 ordini di grandezza quindi è enormemente più grande quindi la forza elettrica è molto 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 più intensa di quella gravitazionale quindi l'effetto gravitazionale per le strutture atomiche per esempio su scala così piccola è rilevante la struttura atomica la struttura delle molecole eccetera non è praticamente in nessun modo sensibile alla massa delle particelle coinvolte la gravitazione lì non conta la struttura è essenzialmente legata alla forza elettrostatica perché invece a livello astronomico a livello quindi cosmico la forza che modella l'universo è la forza gravitazionale perché vale l'inverso perché a livello di corpi celesti questi sono essenzialmente neutri non hanno carica quindi la forza elettrostatica è praticamente nulla e quindi essendo la carica nulla non hanno interazione la forza è zero mentre siccome la forza gravitazionale è sempre attrattiva non esistono masse negative e masse positive a livello cosmico quindi in quel caso lì non posso avere una situazione in cui la forza gravitazionale è nulla per cui la forza dominante su distanze astronomiche diventa quella gravitazionale mentre quella dominante su scale microscopiche è quella elettrostatica è chiaro la differenza questo è molto importante ok bene questo era tutto per oggi sono le cose che abbiamo visto fino ad oggi quindi come si manifesta la presenza della carica elettrica come interagiscono cariche elettriche diverse come si comportano corpi diversi conduttori isolanti in cosa consiste il fenomeno dell'elettrizazione abbiamo visto polarizzazione per i conduttori per gli isolanti induzione per i conduttori abbiamo visto l'aspetto quantitativo dell'interazione elettrostatica la forza di coulomb come viene misurata come viene definita la carica elettrica unitaria il coulomb e il fatto che la carica l'interazione elettrostatica è sensibile all'ambiente al mezzo dove si trovano le cariche diversamente da quella gravitazionale e il confronto tra le due forze che sono matematicamente molto molto simili la forza gravitazionale e quella elettrostatica nel caso di un sistema molto semplice come un atomo di idrogeno ok ci sono domande la parte prossima sarà come nel caso l'abbiamo fatto per la forza gravitazionale anche in questo caso trattandosi di forza a distanza le due cariche sono separate da una distanza anche qui sarà utile introdurre il concetto di campo come abbiamo introdotto il concetto di campo gravitazionale per interazione gravitazionale anche qui avremo un campo di tipo elettrico che è il modo con cui si manifesta la forza a distanza d'accordo ma per oggi ci fermiamo qui a distanza